Ciao a tutti ragazzi, buon Natale a tutti ragazzi ancora perché oggi sarà un video molto, ma molto, ma molto speciale perché vi mostrerò tutti i miei regali, ovviamente alcuni li avrò aperti però vi faccio vedere che cosa ho preso allora, sì, che cosa ho preso, che cosa mi ha portato Babbo Natale fatemelo sapere qua sotto nei commenti io vi ho fatto vedere, allora adesso un giorno magari ci giochiamo insieme o con Dani o con Lori ad esempio Nintendo Switch Sport che è un gioco bellissimo The Sims che mi ha portato a casa mia ci farò dei nuovissimi video da condividere con voi così magari lo potete riprovare c'è Nintendo Switch Sport che si può giocare con la famiglia oppure in due ad esempio io gioco o con Lori o con Dani o con mio papà che si chiama Stefano quindi domani in occasione che sarebbe oggi e il mio canastrico per favore datemi gli auguri per mio padre quindi, allora, abbiamo Nintendo Switch Sport ah, e anche il compleanno di mia cugina, quindi è bellissimo Nintendo Switch Sport che sarebbe chiara allora, il Nintendo Switch Sport si può giocare in famiglia o in due come io ho detto oppure in uno, non pensi in uno però si può giocare con solo questa Nintendo Switch che per fortuna a Babbo Natale l'ho chiesto e mi ha dato questo, grazie Babbo Natale e praticamente giochi c'è, allora, ve lo dico c'è tennis, c'è tennis, poi c'è non so come si chiama poi c'è tennis, tipo bowling, calcio, tennis ci sono sei sport bellissimi da fare che sono davvero molto divertenti che se lo fate con la famiglia vi divertirete molto quante volte non è ripetuto, divertente, ma vabbè e vi piace il mio maionello? abbiamo bella tosse maioncino a tema abbiamo Pikachu, 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 Pikachu Pikachu, Pikachu, Pikachu Pikachu, Pikachu e abbiamo ovviamente Nintendo Switch della televisione io uso sempre questo blu e questa è rossa è il mio fratello anzi, è il suo colore preferito Scrabble che è un gioco che puoi tipo creare delle parole tipo ape cera e tipo qua è un gioco poi, allora, Monopoly dirò a Blox che si tratta poi c'è Adopt Me cioè, è proprio bellissimo dopo vi mostrerò come si gioca allora beh, li abbiamo ci ha portato Babbo Natale ovviamente non vi mostro quelli di Lorenzo allora il joystick questo è qua che è proprio bellissimo ma poi ci ha portato The Sims 4 Charmander tipo questo ora non l'avete visto perché mi è caduto ok poi mi ha regalato le cuffie dei Pokémon quindi se mi trovate con le cuffie bellissimo e perché sto cito vabbè e poi che cosa mi ha portato ah, basta e poi cioè, mio fratello per l'altro c'è un regalo cioè, gli ha fatto un baby Yoda che praticamente si può cioè, si può interagire ah, questo qua me lo sono tornamente sbagliato ah Scramble e Happy Magic me l'ha regalato allora poi mi ha regalato una nota felpa la felpa è di Signor Dunning questo è di Signor Nelson e questo è di una mia zia yeee ok ragazzi io sono davvero felicissimo adesso ho rimasto monopoli di Roblox oggi proveremo monopoli di Roblox vi l'ho ripetuto di cento piga volte c'è raga è troppo bello monopoli di Roblox allora vabbè ci sta allora come si vince avanzando sul tabellone con la nostra petina comprate il maggior numero possibile di proprietà vabbè ci sono i Roblox ragazzi è troppo bello penso che costerà tantissimo ma ovviamente non lo so perché l'ha comprato Babbo Natale quindi non l'ha comprato l'ha fabbricato buffo non lo so magari non lo trovava cioè non poteva fare nella sua fabbrica c'è monopoli di Roblox con tutti i giochi Fashion Famous Prison Life My Restaurant Enorme Poi c'è Tower Difference Simulator Big Paintball Poi c'è Epic Mini Games Breaking Hide and Seek History Ninja Legends Bubblegum Simulator Pli Facility Mad City Build a Bot for Trezor Island Work Pizza Place Arsenal Influencer Marketing J Brick Modern Mystery 2 Mip City Royal Hyde Welcome to Bloxburg e Adopt Me non c'è Brookhaven ah perché questo è del 2020 forse era uscito pure prima voglio questo è eh aspetta ok ragazzi ci sono le pedine che vi vi faccio vedere sono i robux qua ci sono le carte con i giochi qua c'è 500 robux 100 robux questo si può vincere ognuno con un codice per andare in un sito e così vinci ecco c'è il noob delle casette che sta a posto perché eh Dali mi ammazza ovviamente ovviamente devo fare cioè non devo fare macello un macello proprio guardate 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 chiudere al prossimo video buon Natale buon Natale ciao 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 ciao